Una precisazione che credo sia utile mi sono accorto che ho fatto una cosa all'altro gruppo che non l'avevo fatto a voi quindi è bene che io lo faccia così capite questa formula che ho usato L uguale I omega e al di là della tabellina che uno può scrivere che è plausibile voglio che la capiate un po' meglio di più quindi un commento in più ho fatto un altro gruppo torniamo un attimo a descrivere il moto circolare quindi sono tre visioni di un moto circolare attorno all'asse z questa è la vista con l'asse z che esce dalla lavagna immaginate che il moto circolare avvenga a z uguale a 0 quindi l'origine sia qui sulla lavagna e quindi la lavagna è a quota z uguale a 0 e poi ci sono delle viste un po' prospettico e una vista invece dove l'asse x sta uscendo dalla lavagna quindi se avete la particella che è in questa posizione ha quella velocità in questa vista, eccolo qui e in questa vista sta entrando nella lavagna quindi userò una convenzione specialmente a parte del secondo corso è che quando dovete disegnare una freccia che è perpendicolare a una lavagna volete disegnare una freccia potreste avere una freccia che è così o così entrate nella lavagna e uscente dalla lavagna questa è la lavagna e voi siete qua ok? che state guardando più o meno contenti la convenzione è che se questa è nella lavagna è per rappresentare una freccia che sta uscendo dalla lavagna cioè che vi viene in faccia ha la convenzione di disegnare un punto se invece guardate la freccia che entra dalla lavagna la convenzione di disegnare una x ok? questa la useremo quando faremo campi elettrici e campi elettrici alcuni di voi forse l'hanno visto questa convenzione e qual è la logica della convenzione? la logica della convenzione è pensare a una freccia proprio a una freccia nel senso di un'acqua e frecce e ha le piume qua ok? quindi quando la freccia vi viene in faccia voi vedete la punta quando la freccia si sta allontanando vedete le piume questo è un po' un modo che io ho di ricordarmi fate quello che volete memorizzatela senza nessun trucco eccetera allora quindi qua se voi state guardando perché l'asse x vi viene fuori dalla lavagna vedete che la freccia entra la lavagna quindi lo disegno con una x e questa è la velocità che esce va bene semplice allora voglio porvi questo requisito qua supponete che questo punto qua sia dotato di massa cioè un punto materiale che sta facendo un moto circolare uso questa rappresentazione questa qua dove avete l'asse x questo è l'asse x che esce dalla lavagna e questo è l'asse y e questo è l'asse z quindi immaginate che la particella stia entrando qui ok e sta uscendo di qua quindi sta entrando di qua e uscendo di qua d'accordo? sta entrando fa un giro e esce di qua sta facendo un moto così d'accordo? va bene? usciate una massa un punto materiale totale di massa dunque che sta facendo quel moto lì e io vi chiedo di disegnare il momento della quantità di moto allora voi sapete che il momento della quantità di moto è L R il vettore P quindi P cos'è? P P T P P è uguale M V quindi la velocità è entrante quindi la quantità di moto è entrante il vettore R sta andando così P entra L esce dov'è che è disegnata L? dov'è che si disegna L? siccome L nella sua definizione c'è un riferimento o un'origine L va disegnata nell'origine quindi voi dovete disegnare L qua dovete disegnare L in questo momento in questo modo questo è L va disegnato nell'origine questo è una ok quindi lui nel suo modo sta facendo L d'accordo? supponiamo adesso che invece di fare una traslazione dell'origine facciamo una banale traslazione dell'origine cioè in questa l'origine dov'è qua? l'origine è nel centro del cerchio che è la traiatoria che la particella fa d'accordo? spostiamo l'origine lungo l'asse Z non lo voglio al centro del cerchio lo voglio altrove quindi cancello il disegno che mi è più facile questo è l'asse Z l'asse di rotazione voglio che sia sempre l'asse Z voglio che il piano di rotazione sia parallela al piano xy ma non necessariamente nella lavagna la lavagna è Z uguale a 0 voglio che il piano di rotazione magari sia qua ha una Z positiva la particella sta facendo così oppure potrebbe essere dall'altra parte della lavagna fa sempre un moto circolare attorno all'asse Z ma il piano della traiatoria non è il piano non ha Z uguale a 0 quindi immaginate pure che il piano della particella entri qua nella lavagna esca di qua quindi il piano del cerchio è questo ma l'origine che so sia qua questo è l'origine anzi lo disegno un po' più vicino poi capirete tra l'antimo quindi voglio che questo sia l'asse Z l'asse X esce alla line l'origine è qua ho solo spostato l'origine il moto è sempre la stessa particella che sta facendo il suo moto circolare attorno all'asse Z ma l'origine non è nel centro del cerchio sembra una puttanata no? adesso disegnate il momento della quantità di moto quando la particella è qua qual'è il vettore R? il vettore R è un vettore che è così ecco P entra e quindi L com'è? L è perpendicolare giusto come tutti i prodotti vettori L è perpendicolare al piano individuato dai due fattori ammesso che sia uno sto ottimo lo so ovviamente ma adesso P entra R è così e il piano adesso è questo lo vedete? quindi la L è perpendicolare a questo piano quindi io dove la devo disegnare? la devo disegnare un'origine ed è un vettore che è così questo è la L quando la particella è qui ma quando lui si è trovato dall'altra parte che direzione è L? ha una direzione diversa quando è qua il vettore posizione adesso è questo P esce dalla lavagna L è perpendicolare a questo piano quindi la L che avrà lo stesso modulo di questo qua ha però una direzione diversa e devo fare il disegno per bene quindi se il disegno è fatto per bene e questo adesso è perpendicolare quindi questo è perpendicolare a questo questo è perpendicolare quindi questa è la L chiamiamola questo è il punto 1 cioè lui entra qua nell'istante 1 ed esce nell'istante 2 e questo è il momento della qualità di moto nell'istante 1 e questo è il momento della quantità di moto nell'istante 2 vedete che anche se il modulo del momento della qualità di moto è lo stesso la direzione sta cambiando la direzione cambia la direzione cambia L non è conservato semplicemente perché ho spostato l'origine quando l'origine era qui l'ho cancellato troppo in fretta il disegno se questo è entrante questo è uscente quando la particella è qua nella posizione 1 la L è in questa direzione e quando è qui la L è nella stessa direzione quindi L qua non cambia L è una costante qui il modulo non cambia ma anche la direzione non cambia ma la direzione si e allora si dice ma evidentemente se sta cambiando L ci deve essere un momento torcente dov'è il momento torcente? domanda da 18 eh? mettete assieme le cose che sapete già da un po' di tempo moto circolare riforme se avete una massa che sta facendo moto circolare riforme evidentemente c'è una forza rivolta verso il centro non vi pare? perché l'accelerazione se questo è visto dall'altro questo è il disegno visto dall'altro se sta facendo moto circolare in questa posizione ci deve essere un'accelerazione che è rivolta per di qua perché l'accelerazione è antiparallela al vettore posizione quindi c'è una forza rivolta verso l'origine qua c'è una forza rivolta verso l'origine c'è sempre una forza rivolta verso l'origine quindi con questa configurazione quando la particella è qui c'è una forza ma dov'è l'origine qua? l'origine è qui giusto? e quindi se io vi chiedo c'è una forza certo ma qual'è il momento torcente di questa forza qua? voi dite che è? nullo perché questa forza è rivolta proprio all'origine ma guardate là quando la particella è qui dov'è la forza? è rivolta verso lì questa direzione e vedete che questa forza ha un momento torcente rispetto all'origine giusto? quindi qua vedete che il momento torcente è diverso dal zero perché vedete che il momento torcente cos'è? il momento torcente non dimenticatelo è r vettore f la f è questo la r è il vettore che va dall'origine al punto di applicazione qua la r andava dall'origine al punto di applicazione ed era antiparallela alla f quindi tau è da zero ma qua la r è così e vedete che avete una tau e quella tau esce addirittura dalla lavagna quindi il fatto che questo è diverso da zero non vi dovete studiare che L non sia una costante tutto perché ho solo spostato l'origine allora faccio una piccola cosa che non credo di avervi detto quindi introduco un nuovo vettore guardate nel moto circolare torniamo a quando l'origine degli assi x, y, z coincide con il centro del cerchio facciamo una semplice cosa vedete che l'angolo sta variando dal tempo ok? io introduco un nuovo vettore cioè la derivata dell'angolo rispetto al tempo già ha usato la rotazione omega l'abbiamo usato ripetutamente la pulsazione per la massa attaccata alla molla oppure la velocità angolare del piano dei numeri complessi no? abbiamo usato questo simbolo tante volte io adesso voglio trasformare questa grandezza in un vettore lo voglio trasformare lo voglio trasformare in un vettore si chiamerà vettore velocità angolare vettore velocità angolare quindi per noi la velocità angolare diventerà un vettore che ha un modulo e quanto è il modulo? addirittura dire che il modulo non è appropriato come ogni vettore io scriverò ah si chiamiamo pure il modulo avrà un modulo e una direzione per essere un vettore e la direzione è la più semplice in questo mondo perchè abbiamo già usato ripetutamente la mano destra quando siete questa vista qui vedete che la particella sta girando in senso anti-orario attorno all'asse allora voi volete determinare il modulo di omega? facile è la derivata dell'angolo rispetto al tempo quello è semplice ma qual è il verso? allora voi prendete le vostre dita e mettetele nel verso di percorrenza della particella e guardate il pollice il pollice è la direzione di omega molto semplice se la particella stava facendo così il verso sarebbe stato in tre altre quindi omega la direzione del vettore omega è data dal vostro pollice d'accordo? molto semplice allora con questa trovata qua un po' di matematica si semplifica per esempio c'è una descrizione che è questa immaginate che questo sia l'asse A di rotazione questa è una vista un po' prospettica quindi questo sia l'asse X questo è l'asse Y e questa rappresenta l'asse Z quindi questa particella sta facendo un moto circolare sia attorno all'asse Z ma il centro del cerchio non è nell'origine è in un piano parallelo al piano XY immaginate che questo sia che è il vettore posizione la velocità che è questo vettore qua adesso il disegno è difficile dovete poi immaginare la vostra stabilità di usare il cervello quindi se la particella è qui la velocità è sempre di qua riuscite a vedere? la velocità è sempre tangente al cerchio la velocità è tangente al cerchio la velocità può essere scritta così come omega vettor R pensateci un attimo omega cos'è? è un vettore che è nella direzione del vostro pollice quando mettete le dita della mano nella direzione di rotazione della particella attorno all'asse quindi la particella sta facendo un giro così attorno all'asse quindi il pollice è nella direzione dell'asse Z quindi in un certo senso in questo esercizio omega è uguale a teta punto U di Z qual è la velocità? guardate omega è la direzione dell'asse Z perchè la direzione è data dal pollice della vostra mano la particella sta facendo così quindi omega è così questo è l'origine difficile fare un disegno tridimensionale come posso fare? ho bisogno di un punto di ancoraggio ecco qua allora dove è il punto della plastica dove ho ancorato è l'origine ok? questo è il vettore posizione quindi la particella sta facendo dovete seguire la punta di questo sta facendo un moto circolare attorno all'asse Z l'asse Z è questa qua d'accordo? quando è qui la particella e sta venendo verso di voi il vettore posizione è questa ok? omega, come vi ho detto è dato dalla direzione del vostro pollice quindi la particella sta facendo così voi mettete la mano nella direzione e omega è verso l'alto quindi quando la particella è qua omega è verso l'alto d'accordo? d'accordo? allora dov'è questo vettore qua? omega è verso l'alto r è di là quindi quel vettore è perpendicolare a questo piano al piano individuato da questi due e qual'è il piano? è questo piano qui giusto? quindi fatelo dai qual'è la direzione? e la particella sta facendo così e io vi chiedo qual'è il prodotto di omega per r quando la particella è in questa posizione omega è così l'asse z coraggio qualcuno qual'è la direzione di questo vettore? qua omega? hello? è verso di voi quando è qua? quindi quando la particella è qui omega è verso l'alto dov'è quel vettore? non parate io vi sto ricendo la formula di questa io voglio che voi verifichiate che la direzione di questo è la direzione di questo quindi guardate quando la particella è qui la sua velocità è di là omega è verso l'alto r è questo bastone più lungo e in effetti il prodotto vettoriale di questo per questo è un vettore che è di là d'accordo? convincetevi il disegno è impossibile per me renderlo dovete fare qualcosa di analogo dovete convincervi che istante per istante la velocità questo vettore è il prodotto vettoriale di omega che è un vettore che è in questa direzione per r che è questo qui ok? convincetevi quindi il vettore velocità angolare è una semplice invenzione ma semplifica parecchia matematica quindi cos'è? è un vettore che ha il verso dato dal pollice della vostra mano destra dove le dita stanno descrivendo il moto rotatorio attorno all'asse quindi omega è lungo l'asse intanto è il verso quindi l'asse di rotazione z dov'è omega? l'asse z se la rotazione è così qual'è la direzione di omega? è così qual'è il verso? è di là o di là? di là sta facendo così? è perpendicolare qual'è il verso? di là si fa così il verso è di là quindi se avete un'asse di rotazione omega è su quel cazzo di asse qual'è il verso di omega? dovete guardare cosa sta ruotando e chiedervi se le vostre dita seguono così e di là se sta facendo così è di là quindi omega è nella direzione dell'asse di rotazione l'asse di rotazione è l'asse z omega è nella direzione dell'asse z ma è verso l'alto o verso il basso? dipende se la particella sta facendo come in questo disegno allora omega è verso l'alto se la particella concorde con z quindi sarebbe stato omega è uguale a teta punto u di z se questo è positivo se la derivata concorde se questo è negativo allora è discorde cosa vuol dire che questo è negativo? siccome gli angoli stiamo misurando così no? questa è la direzione di teta quindi dire che la derivata di teta è positiva vuol dire che il teta sta aumentando nel tempo quindi sta girando il senso orario quindi se questo è positivo allora omega è concorde con il verso di u di z se invece la derivata di teta è negativa cosa vuol dire? che al passare del tempo l'angolo sta diminuendo ok? e quindi sta girando il senso orario e quindi in senso orario avresti che omega entra dalla lavagna invece u di z esce dalla lavagna quindi vedete che la formula è veramente molto semplice il segno quindi dire che questo modulo è sbagliato infatti prima l'ho citato quando ho usato la parola modulo perchè il modulo è un valore assoluto questo non è il modulo questa è la funzione che ha un segno algebrico quando questo è positivo allora omega è concorde quando è negativo omega è opposto a u di z non è il modulo questo questa è una funzione con un segno algebrico ma non è un vettore la vettorialità ha la direzione data da questo quindi quando riguarderete gli appunti o guarderete il filmato e mi vedrete esitare nell'uso della parola modulo ecco perchè era sbagliato dirlo era prematuro dirvi dov'è che stavo sbagliando questo non è il modulo è la funzione che ha un segno algebrico e vi dice come omega è concordo oppure no con la direzione e la direzionalità è data dall'avversore ok? quindi torniamo qua un attimo alla vista analoga a questa questa è l'asse z l'asse di rotazione la particella entra la particella esce omega che direzione ha? verso l'alto se questa è l'asse z omega è verso l'alto immaginate che questo sia l'origine cioè questo è l'asse y e questo è l'origine abbiamo detto che quando la particella è qui il suo vettore posizione è così e P entra e la sua L era così d'accordo? questo era l'asse z non disegno l'altro disegno questo di questo punto questo è l e disegno in blu il vettore omega questo è il vettore omega d'accordo? dove si disegna omega? in realtà non ha molta importanza non è vincolato a un punto non è vincolato a un punto quindi potrebbe disegnarlo qui, qui, dove volete L invece è vincolato a un punto o all'origine perchè è per definizione creata usando questo vettore qui che nasce dall'origine invece omega rimarebbe la stessa se l'origine fosse qui se l'origine fosse qui se l'origine fosse qui pensateci omega è semplicemente dato dalla direzione del vostro pollice riguardo alla rotazione attorno all'asse non è legato a un punto d'accordo? invece L è legato a un punto per costruzione quindi L dovete disegnarla qua omega potete disegnare dove cazzo vi pare sull'asse allora disegnatela per esempio qui perchè no? ma deve essere chiaro che non avete l'obbligo di farlo questo è omega morale L e omega non sono paralleli ok? L è omega non è parallela a omega ok? L'u era invece se io mettevo l'origine al centro cioè se la particella entrava qua e usciva qui la mia omega era qua sull'asse la L vincolata all'origine era qua L e omega erano paralleli ok? quindi vedete che mettere l'origine nel centro del cerchio avevo il parallelismo mettere l'origine in un punto che non ha nulla a che fare con il centro del cerchio della traiettoria ho il non parallelismo d'accordo? ok facciamo un altro passo in più immaginiamo due particelle di uguale massa di rimpettarie che stanno facendo un moto circolare come qua attenzione avete una particella di massa m qui e avete una particella esattamente dall'altra parte del cerchio della stessa massa immaginate dunque il bastone di massa trascurabile con due masse all'estremo e il bastone sta ruotando quindi se una delle masse entra questo è l'asse z se una delle masse entra nello stesso istante avete l'altra massa gemella che sta uscendo sono due masse adesso non una due quindi questo è un sistema che ha due particelle e l'asse z l'asse di rotazione è un asse di simmetria dire che questo è un asse di simmetria vuol dire che avete una particella da un lato dall'altra parte e avete la particella alla stessa distanza questa se questa è la particella e questa è la particella questa non è un asse di simmetria questo è l'asse di simmetria quindi prendete due particelle di massa uguali e fatele ruotare attorno a un asse di simmetria quindi nel momento in cui questo entra questo esce immaginate che l'origine sia qua quindi che voi avete deciso di chiamare questo l'origine allora guardate cosa succede qual'è omega? cos'è omega? è un vettore che cattura la direzione del vostro pollice nel descrivere la rotazione con le vostre vibre quindi questo entra questo esce omega cos'è? lo disegno dove cazzo mi pare perché non disegnare l'origine? eccola qua la omega descrive la rotazione adesso il sistema è composto da due particelle particella 1 e particella 2 della stessa massa ma su lati opposti del cerchio ok? disegniamo il momento a qualità di moto di questa particella in un dato istante nello stesso istante l'altro sta uscendo quindi il momento a qualità di moto cos'è di questo? questo è il vettore posizione e lo stesso disegno di prima ma la narrazione del disegno è diverso questo è il vettore posizione la L è perpendicolare a questa eccola qua quindi questa è la L della particella 1 chi è la L della particella 2? la particella 2 è questa che ha la stessa massa della particella 1 qual'è il vettore posizione? questa qua la L della particella 2 è perpendicolare a questo piano qui eccola qua se il disegno lo fate bene se il disegno ovviamente l'ha disegnato nell'origine se il disegno lo fate bene meglio di come lo sto facendo io questi due vettori hanno lo stesso modulo e sono disposti simmetricamente rispetto all'asse di rotazione z qual'è il momento di quantità di moto del sistema? la quantità di moto del sistema è L1 più L2 e mannaggia a me che ho disegnato troppo in alto perchè dovreste capire che la somma di L1 più L2 è un vettore che sta proprio nella stessa direzione di Omega quindi recupero il parallelismo quando quando il sistema quando un sistema vuota attorno asse simmetria simmetria con una M2 per fortuna perchè lo voglio di cancellare sistema vuota attorno all'asse di simmetria allora L è parallelo Omega ok? se avete un sistema che ruota attorno all'asse di simmetria allora L sarà parallelo a Omega Omega è il vostro pollice come è distribuita la massa che sta ruotando beh, se è distribuita simmetricamente se avete uno di qua e uno di qua e sta ruotando L sarà parallelo a Omega se non è simmetrico qual cazzo L sarà parallelo a Omega a meno che non scegliate l'origine in maniera furba perchè deve essere chiaro che un esempio di un sistema non simmetrico è una particella che ruota attorno all'asse non è simmetrica non ha un gemello però riesco ad avere Omega parallelo a a riesco ad avere L parallelo a Omega se scelgo l'origine qui no? se scelgo l'origine qui avrò il parallelismo vedi? per un sistema asimmetrico devo scegliere in maniera furba l'origine per sperare di avere il parallelismo e per un sistema asimmetrico invece e allora io sto dicendo che in questo corso a tutti gli esempi che farò questa spiegazione che vi sto dando avrei dovuto farlo prima dell'esercizio di prima in questo corso attenzione meccanici siete avvertiti nella vostra vita capiterà molto di raro che siano paralleli meccanici siete avvertiti in generale L non sarà non sarà parallela a Omega ok? perché mica sempre farete ruotare le cose attorno assi di simmetria anche se c'è un buon motivo per farlo nel mio corso farò il modo di usare sempre assi di simmetria e quindi di avere che L è parallela a Omega quindi L è parallela a Omega e indovinate qual è il fattore di proporzionalità? è il momento inerzia ok? quindi nell'esercizio di prima noi abbiamo usato una volta che era chiaro che la direzione di L e quindi di Omega erano perpendicolari alla lavagna e avevo scelto l'origine in quel punto perché è chiaro che un bastone che ruota attorno ad un'asse ovviamente L non sarà perpendicolare a Omega se l'origine è qua ma se cazzo l'origine all'estremo del bastone cosa che ho fatto in quell'esercizio di prima ecco che L è perpendicolare a Omega l'esercizio di prima dove avevo il bastone e avevo l'origine qua allora l'origine il moto era di questo tipo ho un bastone che sta entrando e l'origine è qua e ho il parallelismo anche se il sistema ovviamente non è simmetrico si capisce adesso l'esercizio di prima? spero di sì per i meccanici immaginate una cosa un po' più drammatica in cui questo è l'asse di rotazione Omega dov'è? lungo l'asse qual'è il verso di Omega? dipende sta girando le particelle gireranno così o così e faccio così allora immaginate una particella che sta entrando qua quindi sta entrando disegno la particella con x anzi scrivo questa particella che scrivo entra è un suo compagno della stessa massa lo voglio che sia per esempio sull'altro estremo di un bastone quindi avete un bastone di massa trascurale una massa è qui e una massa è qui questo entra e questo esce chiaro cosa sta succedendo? vediamo se riesco a emularlo sta facendo così ok? questo viene verso di voi e questo viene verso di me sta facendo così va bene? è chiaro? qual'è il momento qual'è il momento e la qualità di moto di questo? rispetto a questo punto mettete l'origine qua mettete l'origine allora l di questo e per di qua giusto? così così che entra questo cosa fa? stessa direzione? direzione la somma di questi due è un vettore così omega che direzione ha? è questo non sono paralleli certo, non sono paralleli l continua a girare giusto? man mano che questo entra e poi sbuca e questo sbuca e poi entra vedete che l sta facendo un moto sta facendo lui seguendo un enorme cono lo vedete? si? si? l continua a girare si dice che precede avete sentito la parola di questa parola la precessione? si dice che l precede l? pre precede precessione precessione perché l cambia? perché c'è un momento attorcente no? individuate voi meccanici elettrici perché è in programma individuate il momento attorcente e in questo istante in un momento in cui tac! questa è una fotografia questo entra e questo esce qual è il momento attorcente? che direzione ha? allora perché c'è un momento attorcente? perché questo per fare un moto circolare ha bisogno di una forza centripeta di una forza è una coppia è una coppia è una coppia di forze quindi voi per tenere questo bastone in rotazione c'è una coppia che dovete applicare per compensare questa quindi quando è che se voi fate ruotare qualcosa attorno a un asse che non è di simmetria avrete delle coppie e voi per tenerla in questa posizione avete bisogno di esercitare una coppia uguale e contraria quindi cosa fa il gommista quando mettete su gomme nuove? li bilancia giusto? perché se avete una ruota che non è bilanciata cosa succede? nell'essere non bilanciata ruotando attorno un asse ci saranno una coppia di forze c'è un momento torcente e la macchina la deve fornire il metallo e la vostra macchina sarà sotto sforzo poi avrete vibrazioni eccetera meditate su questo disegno comunque ripeto magari la precessione se mi ricordo di portarlo ne parliamo brevemente sul pomeriggio porterò un giroscopio qualcuno ha mai studiato a parlare del giroscopio comunque nel mio corso a meno di qualche domanda cattiva all'orale L sarà sempre parallela a omega e scriverò così in generale non è vero quando avete un'asse di simmetria oppure come nell'esercizio del bastone impiodato alla parete quando scegliete opportunamente l'origine avremo quello se il sistema non è simmetrico non sarà così quanto manca allora? voglio impostare un'altra esercizio dopo aver fatto l'urto completamente anelastico cosa farò adesso? L'urto elastico quindi di nuovo sul tavolo sul tavolo lubrificato avete un bastone che è inchiodato all'estremità arriverà un proiettile che colpirà il bastone e il bastone ma colpirà con un urto elastico cos'è un urto elastico? un urto elastico dove si conserva cosa? l'energia di movimento l'energia cinetica ok? quindi visto dall'alto questo è il vostro bastone col suo buco all'estremità inchiodato e il tavolo visto dall'alto è lubrificato ed è lubrificato anche qui ecco che arriva il proiettile un proiettile arriverà con una certa massa una certa velocità v0 ed è puntato proprio all'estremo ma voglio che sia un urto elastico quindi se volete una biglia d'acciaio che urta contro un'aste d'acciaio d'accordo? 10 minuti almeno l'imposto è un urto elastico allora io scelgo questo punto come origine come polo rispetto alla quale misurare i momenti torcenti e i momenti della quantità di moto perchè rispetto a questo punto l'unica forza esterna che c'è sul bastone perchè il sistema sarà proiettile e bastone l'unica forza esterna sarà la forza del chiodo ma la forza del chiodo è applicata proprio nel punto che io ho scelto e quindi ha un momento torcente nullo quindi il momento della quantità di moto del sistema prima dell'urto è uguale al momento a quantità di moto dopo l'urto quindi lo scriviamo subito quindi mv0r e poi abbiamo che sarà uguale al momento a quantità di moto dopo l'urto allora dopo l'urto avete il bastone che sta ruotando e avrà una certa velocità angolare omega f che non sappiamo cos'è e anche il proiettile starà facendo qualcosa starà andando in questa direzione oppure potete immaginare adesso potrebbe anche rimbalzare avere una velocità che torni indietro quindi cosa fa il proiettile? ha una certa velocità finale anzi per liberarsi di inutili scritture non abbiamo bisogno di mettere f qua e a perchè è chiaro che v0 è la velocità iniziale del proiettile bastone inizialmente è fermo e quindi v per me è la velocità del proiettile dopo l'urto e omega è la velocità angolare del bastone dopo l'urto simplifichiamo la trazione quindi questo è il momento a quantità di moto prima dell'urto dopo l'urto ho il momento a quantità di moto di due cose quello del bastone e quello del proiettile quello del proiettile sarà mv la sua velocità sempre per r e quello del bastone la scriviamo così quello del bastone per omega certo quello del bastone ammesso che l'esercizio sia questo bastone omogeneo sarà un terzo la massa del bastone r quadro ma è tanta scrittura qua è tanto gesso teniamolo come i per il momento no? poi ci ricorderemo alla fine dell'esercizio che i vale nel caso di un bastone omogeneo un terzo m r quadro questa è la conservazione del momento a quantità di moto perchè è conservato? perchè ho scelto questo punto qua e questo punto qua è la scelta intelligente perchè l'unica forza esterna che sta agendo sul sistema rispetto a questo punto ha un tau nullo questo è il contributo del proiettile questo è il contributo del bastone questo è dopo l'urto è uguale all'urto perchè si conserva l'energia cinetica perchè vogliamo che l'urto sia cinetico allora scriviamo un mezzo mv0 quadro questa è l'energia cinetica prima dell'urto l'unica cosa che sta muovendo è il proiettile dopo l'urto abbiamo due moti abbiamo il moto del proiettile e abbiamo il moto del bastone il moto del proiettile è un mezzo massa per la velocità che avrà alla fine e quando abbiamo scrive l'energia cinetica del bastone e lo scriveremo come un mezzo i omega quadro quella è l'energia cinetica di una cosa che sta ruotando attorno ad un'asse i è il momento di inerzia rispetto all'asse quindi questa è energia di movimento rotazionale questa è energia di movimento traslazionale saranno uguali questo e questo perchè per ipotesi l'esercizio è elastico come vedete il contenuto matematico il contenuto matematico a seconda equazione quindi riscrivo la seconda equazione con solo il suo contenuto lo scrivo qua mv0 quadro adesso uguale a mv quadro più i omega quadro l'un mezzo non certamente contribuisce ok? quindi questa è l'equazione 1 questa è l'equazione 1 questa è l'equazione 2 questa è la 2' adesso prendo il sistema 1 e 2' e li riscrivo li riscrivo come? per esempio porto a sinistra tutto quello che riguarda il proiettile lasciando a destra tutto quello che riguarda il bastone quindi la prima la riscrivo così ho mr v0 a v0 meno v è uguale a i omega ho messo in evidenza mr e ho portato la v di là faccio la stessa cosa con questa equazione porto a sinistra tutto quello che riguarda il proiettile e a destra quello che riguarda il bastone quindi ho mv0 quadro meno v0 quadro e questo è uguale a i omega quadro ok? portando questo di qua messo in evidenza v0, molto semplice adesso questa equazione qui questo è il mio sistema la seconda equazione è un prodotto notevole quelli che hanno studiato recentemente l'urto elastico dei blocchi dovrebbe riconoscere i passaggi anzi il mio consiglio è quando studiate in questo esercizio studiate quello dell'urto elastico tra i blocchi sulla pagina opposta del quadro cioè fate due pagine di ripetare sulla pagina sinistra l'urto elastico dei blocchi e sulla pagina destra l'urto elastico di questo tipo perchè i passaggi sono formalmente identici ok? quindi fare uno è un ripasso dell'altro il secondo lo riscrivo prodotto notevole quindi ho v0 meno v0 meno v0 più v e questo è i omega quadro poi cosa faccio? prendo la seconda e la divido per la prima nell'ipotesi che posso farla quindi riscrivo tutto qua così vedete i passaggi quando è che questo è legittimo? quando il denominatore qua è diverso da 0 quindi questo passaggio è legittimo nella misura in cui av0 è diverso da v e nella misura in cui omega è diverso da 0 questa divisione è possibile ma pensate al significato fisico di questa richiesta matematica dire che omega è diverso da 0 e dire che la velocità del proiettile dopo l'urto è diversa da quello iniziale vuol dire che l'urto è avvenuto ok? che il proiettile iniziale ha subito una variazione della sua velocità perchè ha urtato qualcosa e il bastone che era fermo si sta muovendo perchè è stato urtato quindi questa richiesta matematica ha senso fisico quindi possiamo fare la visione i, i, omega, questo va via questo va via, questo va via, questo va via questo va via, questo va via e aiutatemi a non sbagliare scrivo il risultato qua giù sono cieco qualcuno me l'ho detta? quindi cosa ho? ho v0 più v uguale a omega r ok? ho portato questo r qua quindi v0 più v uguale a omega r d'accordo? che ha senso perchè queste sono delle velocità questa è un tempo al meno 1 questo ha la lunghezza e questo ha la dimensione della velocità quindi guardate sempre a formule un po' acriticamente una volta che ho questo lo risbatto nella prima quindi la prima la riscrivo qui perchè sono un po' cieco con questi occhiali progressive non vedo molto bene ok? quindi prendendo questa e mettendola per esempio qua d'accordo? posso prendere questo qui e metterla qua quindi avrei mv0r uguale mvr più i a questo punto io ho una equazione quindi ho preso questa le ho messi assieme e ho un'equazione con unicognita che è v e quindi si tratta semplicemente di manipolarla forse la cosa più semplice è moltiplicare tutto per r che vedete? quindi ho mv0r quadro uguale mvr quadro più i v0 più i v quindi devo isolare v quindi porto questo di qua quindi ho mv0r quadro meno i e qui a destra c'ho mr quadro più i rv ok? quindi v Perchè Questa è la prima formula che guardate come rassomiglia formalmente a quello che abbiamo fatto con i blocchi e ovviamente questa è la prima formula poi avete bisogno di scrivere la seconda formula che è Omega quindi cos'è Omega guardate subito il risultato una cosa interessante cos'era i? i era le i del bastone rispetto all'asse di rotazione l'asse di rotazione era questo asse qua quindi se mr quadro che è il momento di inerzia del proiettile se volete nell'istante dell'impatto quando la particella è qua qual'è il momento di inerzia? è la massa per la distanza del proiettile dall'asse che è r quadro quindi nell'istante dell'impatto il momento di inerzia del proiettile se è superiore a i a quello del bastone allora v è positivo se il momento di inerzia del proiettile nell'istante dell'impatto è minore come lì allora la particella ribalza dal proiettile ribalza e se il momento di inerzia del proiettile nel momento dell'impatto è proprio uguale a i il proiettile si ferma proprio come nel bigliardo quindi il proiettile arriva si ferma e il bastone parte ma questo avverrà col proiettile che si ferma come nel bigliardo quando è che succedeva che il proiettile urtante si fermava? si fermava se la massa era uguale qua se nell'istante dell'impatto il momento di inerzia è uguale ci vediamo alle due meditate su questi due esercizi